Buonasera, da stasera ritorna la porta sull'infinito, confortati dall'attenzione e dalla simpatia che ci avete mostrato nel corso del precedente ciclo nell'inverno del 2005, ci riproponiamo con la speranza di proporvi ancora argomenti che possano suscitare il vostro interesse e la vostra curiosità, lo faremo anche con l'ambizione piuttosto prepotente in questo ciclo anche di tentare di uscire da un ambito squisitamente regionale, stessa squadra in campo, resta inalterata anche la formula, programma curato come nelle precedenti occasioni da Stefano Salvatici e Andrea Feno e io affiderei proprio a Stefano Salvatici che quest'anno non comparirà più come succedeva nelle precedenti puntate qui a fianco a me in studio, salvo che in qualcuno dei prossimi appuntamenti, ecco affiderei subito a Stefano Salvatici il compito di introdurre intanto il tema di questa sera e fare una rapida ricognizione anche su altri argomenti che avremo modo di affrontare nelle prossime puntate. La porta sull'infinito rincomincia la sua stagione dei misteri, la prima stagione abbiamo parlato di UFO, alieni, cerchi nel grano, rappimenti, sciamanesimo. In questa seconda cavalcata che speriamo sia di vostro gradimento parleremo di anima, sogni, cospirazione, nuraghi, misteri, diavoli, strere e quant'altro. Questa puntata che mi accingo a presentare parleremo di cospirazione e di controllo globale. Ma cosa si intende per cospirazione? E ancora, il controllo globale, che cosa può essere? Con questo termine che cosa si può intendere stia capitando al genere umano? Cospirazione ovviamente sottintende che esista un gruppo, qualcuno, un certo numero di persone che cospirano alla nostra persone, alla nostra vita sociale, mentre il controllo globale può sovintendere altre cose come ad esempio il grande fratello che c'è stato, come dire, passato come un divertimento, in realtà sembra che esistano delle nazioni che attraverso i telefoni, attraverso mezzi di comunicazione riescono a controllare il genere umano. Io credo che oggi in questo pianeta esista un'esigenza, esiste l'esigenza che la gente conosca la verità, che abbia la possibilità di essere libera. Un esempio su tutti, un giornalista, chiamiamolo un giornalista di frontiera, David Icke, una persona che rischia la sua vita quotidianamente per esortare la popolazione umana a osservare i simboli e gli avvenimenti che in una mappatura mondiale, come un grande puzzle, accadono di fronte ai nostri occhi, senza che noi possiamo, come dire, rendercene conto. David Icke ha assunto come vero che una casta di reali, dai tempi di Babilonia in poi, governa questo pianeta. E' un interrelativo inquietante? Sarà vero? Sarà falso? Durante la trasmissione credo che alcune di queste risposte o molte altre domande verranno fatte. Dunque la cospirazione al centro soprattutto della prima parte di questo nostro primo appuntamento con la porta sull'infinito, concetto che potremmo definire quello della cospirazione come un procedimento mentale che forse porta a ritenere che la realtà quotidiana sia assolutamente diversa da quella che noi percepiamo. La realtà quotidiana si può quindi identificare con una cospirazione che nasconde uno stato di cose ben diverso, però generalmente ai più questo non è accessibile. Il complotto è una parte della cospirazione, più complotti organicamente strutturati danno vita alla cospirazione che viene perpetrata, lo accenava anche Stefano Salvatici nella sua introduzione da persone, enti, individui ai danni o alle spalle di singoli individui o addirittura di intere nazioni, di intere comunità. E' un fenomeno che ha avuto la sua grande espansione soprattutto in quest'ultimo decennio, anche se è un tema antico, addirittura potremmo ritornare alle crociate per trovare le prime tracce della cospirazione. Un tema, un fenomeno particolarmente vivo nel Medio Oriente dove si moltiplicano le teorie, sulla situazione legata alla presenza americana, soprattutto la perfida dell'imperialismo americano e degli ebrei, ma che è presente anche negli Stati Uniti, anzi forse gli Stati Uniti sono tradizionalmente ritenuti una sorta di agenzia della cospirazione. Bene, allora stasera incomincieremo a domandarci se veramente dietro grandi manovre economiche a livello mondiale, anche dietro grandi eventi della storia, all'ombra anche di grandi enigmi di questi ultimi secoli. Possono esserci più mani che governano dall'alto decidendo i destini e addirittura avendo anche il potere di vita e di morte sulla popolazione. Di questo parliamo con i nostri ospiti e devo dire che per me sono dei graditissimi ritorni, mi auguro anche per loro, perché sono personalità, studiosi, esperti che hanno avuto modo di accompagnarci anche nel primo ciclo di queste nostre trasmissioni. Bentornato quindi al professor Corrado Malanga, docente di chimica industriale all'Università di Pisa, ricercatore mondiale di interferenze aliene. Bentornato anche a Tom Bosco che è direttore responsabile della rivista Nexus per l'Italia e un bentornato anche a Maurizio Bagliata, direttore Deus Ex Machina della rivista Area 51. Anzi proprio con Bagliata. Volevo iniziare per una brevissima parentesi prima di inoltrarci nel nostro tema, perché Bagliata è a reduce da un convegno qualche giorno fa a Roma in cui si è parlato del 2012, un anno fatidico che potrà segnare sconvolgimenti, cambiamenti radicali nell'universo. Per Imaia potrebbe essere appunto l'inizio di un nuovo corso, Nostradamus lo indica come l'avvio di un periodo di possibile felicità, apprezzo però di sconvolgimenti e distruzioni. Cosa è emerso sinteticamente Bagliata da questa? Hai detto tutto tu. Ti chiedo scusa. Per quanto riguarda le teorie hai detto tutto tu e già sappiamo che quello che si deve venire a verificare ce lo dobbiamo vivere comunque giorno per giorno. Sappiamo in tutta coscienza che la vita di tutti i giorni diventa sempre più difficile. Nel corso di questo convegno durato un giorno e mezzo organizzato da Massimo Fratini sono emersi alcuni aspetti secondo me che non sono per nulla new ageiani ma che partono dalla matematica, dal calcolo e arrivano invece ad una logica sequenza di avvenimenti che noi stiamo vivendo a partire dal 2001. alcuni dei ricercatori presenti hanno ripercorso la storia dell'ultimo sessantennio, settantennio facendoci vedere questi anelli, queste concatenazioni di fatti, di personaggi e di storie che poi magicamente arrivano fino al 2012 secondo certe versioni. Il succo è questo. Tutti dicono a sarà come di nuovo il millennium bug del 2000, a sarà come una grande trasformazione terrificante, moriremo tutti fra atroci tormenti. Da questo convegno vi do la bellissima notizia che è emersa esattamente il contrario. Le cose vanno malissimo e oggi ne parleremo abbondantemente credo, però il 2012 non segna il trapasso del genere umano a miglior vita, oggettivamente. Allora noi entriamo immediatamente nel tema odierno, cospirazioni abbiamo detto e abbiamo affidato così come è accaduto nel precedente ciclo, stessa squadra come abbiamo detto, abbiamo affidato a Leila Manunza il compito di illustrarci questo tema di apertura. Proporiamo allora questa scheda introduttiva. La teoria della cospirazione presuppone un sistema di controllo globale, un piano ideato da ristretti gruppi d'elite per incidere sull'aspetto emotivo delle masse e portare a compimento un nuovo ordine mondiale, ovvero una forma di governo ombra che impone un sistema di controllo economico e politico con la creazione di un'unica moneta, un'unica valuta, un'unica banca e un unico esercito con l'obiettivo di piegare al suo volere la popolazione mondiale riducendo e negando così diritti e libertà. Le componenti essenziali della cospirazione sono il coinvolgimento di almeno due persone, la segretezza e l'intento sotteso a volte preordinato al compimento di un atto illegale. La teoria sociale della cospirazione mutua la sua costruzione dal grande Omero che faceva dipendere gli affanni terreni dalle trame degli dèi dell'Olimpo. In una versione più moderna si potrebbe infatti sostituire la figura degli dèi con quella di gruppi di potere che con il loro volere incidono pesantemente sugli eventi reali. Con il termine teoria del complotto si vuole invece intendere la manipolazione della realtà ad opera di uno o più poteri occulti capaci di costruire ad arte una versione ufficiale di un evento, attuale o storico, con l'obiettivo di nascondere la verità. Gli esempi di complotti storicamente documentati sono innumerevoli e si sono esplicati nei più disparati scenari, eventi bellici, omicidi politici, crack finanziari, traffici internazionali, insabbiamenti di tecnologie rivoluzionarie, scoperte archeologiche e così via. Per giustificare la politica razziale della Germania nazista, ad esempio, si imputavano agli ebrei i problemi provocati da disoccupazione e povertà che affliggevano la nazione. Ma per arrivare ai giorni nostri, l'amministrazione americana si è dichiarata in guerra contro un complotto islamico mondiale. Alcuni hanno anche accusato al-Qaeda dei blackout in California prima che emergessero con chiarezza le responsabilità di aziende private che tagliavano ad hoc le forniture per aumentare i prezzi. La diffusione di uno stato di insicurezza e di paura nelle popolazioni è funzionale al raggiungimento di determinati scopi geopolitici. Ad esempio, la seconda guerra del Golfo è scaturita dalla presunta minaccia per gli Stati Uniti, di un Saddam Hussein che, secondo la teoria allora dilagante, poi rivelatasi del tutto infondata, avrebbe posseduto armi di distruzione di massa. Osama Bin Laden non è ricercato per gli attentati dell'11 settembre, inizialmente a lui attribuiti dagli americani. L'FBI non lo annovera infatti tra i responsabili. Se è vero che gli esempi sono numerosi, ciò che accomuna tutti questi casi è la presenza di un gruppo di potere clandestino che aspira all'egemonia globale senza esclusione di colpi per raggiungere i propri obiettivi. Con questa scheda abbiamo così inquadrato in termini generali il tema di stasera. Il compito più difficile lo affido in apertura al professor Corrado Malanga, più difficile perché siamo a ridosso della prima interruzione pubblicitaria e chiederei a lei una battuta proprio veloce per tentare di rispondere alla domanda chi è che cospira e contro chi? I personaggi di questa commedia sono due, da una parte c'è il popolo e dall'altra parte c'è chi governa. Tecnicamente chi governa lo fa vedere, fa vedere chi governa, con la democrazia e il popolo a volte crede di essere in democrazia, ma siamo proprio sicuri di essere in democrazia, siamo proprio sicuri che tutti possiamo partecipare alle elezioni, io mi potrei candidare e decidere di partecipare alla vita pubblica del paese, ma scopro immediatamente che questo non è possibile, perché? Non ho i soldi, non ho i soldi per pagarmi la campagna che mi serve, i soldi li ho solamente se un industriale me li dà, ma se io ovviamente vinco le elezioni, l'industriale dopo vorrà che io gli faccia le leggi per lui, allora siamo proprio sicuri di essere in democrazia e allora l'industriale non sarà lui che governa, e se governa l'industriale allora forse in qualche modo non fa le leggi democratiche, questo è il problema, noi da che parte siamo? Siamo sicuri di poter effettivamente in qualche modo col nostro voto fare qualche cosa per la democrazia, oppure la democrazia è solamente finta, ecco questo è il cospirazionismo. Certo che appare subito sorprendente immaginare che uno Stato eletto e finanziato proprio dai cittadini alla fine possa cospirare proprio contro di loro, contro i cittadini, temi che avremo a modo di approfondire ancora tra poco dopo la prima pausa pubblicitaria. Parliamo di cospirazione in questa prima puntata della Porta sull'Infinito, una cospirazione ci diceva il professor Malanga poco fa architettata dagli stessi governi contro la popolazione, a noi profani verrebbe voglia di applicare questa situazione in situazioni politiche non prettamente democratiche. Tom Bosco è così? O anche in democrazia accade che possano maturare proprio i segni di una cospirazione nei confronti della popolazione? Ma intanto domandiamoci come mai va tanto di moda adesso la parola democrazia che viene usata per qualsiasi ricetta, addirittura è diventato un bene esportabile, perché adesso la esportiamo in tutto il mondo questa democrazia, ma io sono d'accordo con quelli studiosi tipo Noam Chomsky o qui in Italia anche Massimo Fini ha scritto un saggio a proposito, sono assolutamente d'accordo con coloro che definiscono la democrazia come una dittatura esercitata attraverso il consenso della popolazione e come ottieni il consenso? Controllando gli apparati mediatici, giornali, televisioni, controllando l'apparato scolastico, formando diciamo così la cultura di un paese e naturalmente controllando l'economia, cioè attraverso, se tu hai il controllo di questi apparati chiave puoi manipolare la gente come ti pare. Maurizio Bagliata, viviamo circondati da cospiratori senza accorgercene? Io direi che ce ne accorgiamo perfettamente, cinque anni per fare un programma come quello di Mentana, cioè cinque anni per parlare dell'11 settembre in Italia, cinque anni che noi giornalisti tappati, così chiusa la bocca dal signor Maurizio Costanzo, io ci sono stato parecchie volte, trattavo con la redazione di Maurizio Costanzo e dicevo ma non è che per caso si potrebbe parlare anche dell'11 settembre, no, 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 qualcuno è riuscito forse qua e là ad apparire sporadicamente, finalmente sembra che la cospirazione, la vera cospirazione stia venendo meno. E noi avremo modo stasera di affrontare proprio anche questi aspetti che anticipava Maurizio Bagliata, spesso però le strategie per la soluzione anche di crisi di carattere internazionale vengono pensate, studiate a tavolino con metodi e piani che solo raralmente, forse casualmente vengono alla luce e quanto è emerso, se solo ricordiamo le problematiche, per usare un eufemismo, i problematici rapporti tra gli Stati Uniti e Cuba ai primi anni 60 con l'avvento di Fidel Castro e la cacciata del dittatore Fulgenzio Battista da Lavana. Bene, in quel periodo, proprio in quegli anni è maturato un piano che voleva proprio indicare dei pretesti artatamente costruiti per giustificare un intervento militare statunitense a Cuba. In che modo? Lo rivediamo e lo ricostruiamo, questo aspetto, nella scheda nella quale ricostruiamo in particolare il piano Northwoods. Potremmo dare inizio ad una campagna di terrorismo da far apparire come comunista o cubano nell'area di Miami o in altre città della Florida ed anche a Washington. La campagna di terrore sarebbe indirizzata a rifugiati cubani in cerca di asilo negli Stati Uniti. Potremmo affondare, veramente o per finta, una barca piena di cubani diretta in Florida. Potremmo promuovere attentati alla vita dei rifugiati cubani negli Stati Uniti e fare esplodere alcune bombe al plato. Queste scritte minacciose, a differenza di quanto potrebbe sembrare, non sono il manifesto di un gruppo terroristico, ma compaiono, a chiare lettere, sui fogli protocollati del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America. Su questi documenti, datati 13 marzo 1962, campeggia la firma del generale Lyman Lewis Lemnitzer, l'allora capo di Stato Maggiore della Difesa. Si tratta in realtà di un piano strategico chiamato North Foods, volto ad ingenerare nell'opinione pubblica la credenza di un attacco terroristico ad opera dei comunisti cubani. Si trattava però solo di un pretesto per giustificare così l'intervento americano sull'isola Caraibica. Già nell'aprile 1961 si era consumato, nel disperato e vano tentativo di invadere Cuba, il più clamoroso fallimento della CIA, la Baia dei Porci. Il generale Lemnitzer, nonostante fosse a conoscenza che l'esito dell'operazione sarebbe stato negativo, dopo aver rassicurato il presidente John Fitzgerald Kennedy, non fece applicare i necessari correttivi al piano studiato dalla CIA e lasciò che si compisse l'inevitabile destino per i 114 esuli cubani impiegati nell'attacco. Un pesante sacrificio che permise al capo della difesa di ottenere il passaggio dell'operazione dalla CIA alla competenza dello Stato Maggiore di cui era al comando. Non andò invece a buon fine il tentativo di Lemnitzer che nel marzo delle 62, a nome di tutto lo Stato Maggiore presentò al segretario della difesa Robert McNamara i piani Northfoots volti a generare dei pretesti che autorizzassero l'intervento delle forze armate americane a Cuba. Gli atti presentati dal capo di Stato Maggiore, inizialmente coperti dal segreto, vennero poi resi pubblici da un'agenzia governativa incaricata di divulgare la documentazione ufficiale collegata all'omicidio del 35esimo presidente degli Stati Uniti. Ma il capo di Stato Maggiore non si è rese e continuò a proporre una trentina di suggerimenti per inscenare finti attacchi, rivolte e sabotaggi come l'affondamento di una nave americana nella baia di Guantanamo, facendo credere che fosse opera dei cubani o simulare, sempre per mano dei cubani, l'abbattimento in volo di un charter americano con a bordo civili partito dagli Stati Uniti, con destinazione giamaica, Panama o Guatemala. Ma come interpretare oggi, a cinque anni di distanza dall'11 settembre 2001, il progetto Northwood? Si possono riscontrare delle analogie. Esisteva anche nel caso delle torri gemelle un piano architettato da elementi del governo statunitense per far credere si trattasse di attacchi terroristici e giustificare così un intervento in Iraq? Di fronte a macchinazioni di tale portata, è ancora credibile che l'aviazione americana non avesse previsto dei protocolli ad hoc per scongiurare possibili attacchi provenienti da aeree e civili fuori rotta? Ecco, la parte conclusiva di questa scheda anticipa alcuni interrogativi che avremmo modo di affrontare più avanti nel corso della trasmissione queste possibili analogie tra quanto pensato, ipotizzato dagli Stati Uniti nel 62 nei confronti di Cuba e quanto accaduto invece cinque anni fa con l'attacco alle torri di New York. Certo è che questa scheda ha voluto in qualche modo mettere in evidenza come il piano Northwoods altro non fosse che una forte esaltazione, quanto meno delle tecniche di provocazione del partito della guerra negli Stati Uniti presente probabilmente anche in tempi odierni. Tom Bosco, intanto com'è possibile che un documento così riservato, così segreto sia poi emerso e venuto alla luce? Finché funziona la legge per la libertà di informazione, grazie a Dio, finché ci saranno persone che cercheranno di usare questa legge esistente negli Stati Uniti attraverso cui i cittadini devono avere libero accesso alle informazioni e ai documenti del governo, è grazie a questa legge che abbiamo potuto accedere a questa documentazione. E comunque mentre ascoltavo la scheda che riguardava il progetto Northwood, mi è venuto da pensare che tutto sommato la storia si ripete e che il progetto Northwood in fin dei conti probabilmente è solo una riedizione di cose che gli Stati Uniti e anche altri, non voglio dire che siano stati solo loro, hanno già usato ancora prima, non dimentichiamo che Cuba prima era in mano agli Stati Uniti, era diventata una colonia degli Stati Uniti, ma prima di esserlo era una colonia spagnola e com'è che gli Stati Uniti sono entrati in guerra con la Spagna e si sono possessati di Cuba e poi anche delle Filippine? Perché nel 1898 una corazzata americana, la Maine, all'ancora nella baia di Cuba, dell'Havana credo, o forse proprio a Guantanamo, saltò in aria, gli americani dettero la colpa agli spagnoli, gli scoppiò la guerra e gli americani presero possesso di Cuba, degli ultimi scampoli coloniali spagnoli. Poi ci sono i soliti teorici della cospirazione che dicono che anche durante la prima guerra mondiale l'affondimento del Piroska fu l'Isitania che fu la scusa, o comunque diciamo che fu il pretesto per l'entrata in guerra degli Stati Uniti, anche quello fosse stato un evento concertato e organizzato a proposito. Bosco probabilmente ha già anticipato quello che voleva essere il contenuto della mia successiva domanda, sapere se esistono comunque altri casi simili, una domanda che giro a Bagliata magari è malanga, altri casi simili come strategia d'azione nei quali proprio le coperture non hanno fatto trappare la verità come invece abbiamo potuto verificare con il piano Northwoods. I tedeschi, i nazisti si impadronirono del potere con un'operazione molto simile, diedero fuoco alla cancelleria, il Reichstag e diedero la colpa ai comunisti, quindi ci fu una insorgenza nazional popolare inneggiante ai nazisti in quel momento accusando i comunisti ebbero il via libera. Se vogliamo arrivare al cospirazionismo per eccellenza e a quanto Roosevelt invece fosse già a conoscenza del fatto che i giapponesi stessero o meno per attaccare per Harbour, per dar luogo all'intervento nella guerra del Pacifico da parte degli americani, è chiaro che hai a che fare con 5300 morti per l'Harbour che sarebbero una macchia da un punto di vista prettamente numerico superiore a quella dei 3005 delle Twin Towers. Malanga? Nerone brucia Roma e dà la colpa agli ebrei, capiamo subito che il cospirazionismo non è nato, lo vediamo ora, ma c'è sempre stato ed è caratterizzato da un cattivo rapporto tra chi subisce la politica e chi la fa, chi comanda in qualche modo. Ma va tenuto presente che il meccanismo fondamentale che alimenta questa cosa è il denaro, non tanto la voglia di fare la guerra, ma è la voglia di fare soldi, è per questo che si fanno delle guerre, perché le guerre fanno fare dei soldi alle persone. Oppure la guerra economica, noi per esempio siamo spinti a comprare 5, 6 telefonini, chissà perché io stavo tanto bene quando non c'era nemmeno uno, perché? Perché attraverso i telefonini ci sarà sempre un signore che si chiama Echelon, che è un grande orecchio elettronico che ascolta le tue informazioni, quindi se invece di aiutarci a comprare i telefonini ci aiutassero a pensare che forse si può anche parlare nella mente, con la mente, non ci sarebbe più nessuno che a te sta a sentire poi nella testa e quindi al governo fa comodo la tecnologia. Ecco, quel piano Northwoods di cui abbiamo parlato, che risale come abbiamo visto ai primi anni 60, in qualche modo viene ulteriormente raffinato, perfezionato nei tardi anni 90, con la stesura del progetto per il nuovo secolo dell'America. Ne parleremo tra poco, dopo una nuova interruzione pubblicitaria, affermo restando che anche quanti ci seguono da casa possono interagire con noi, contattandoci ai numeri e gli indirizzi che appariranno comunque in sovrimpressione. Linea alla regia per la pubblicità. Riprendiamo il nostro percorso attorno alla cospirazione parlando del PNAC, un acronimo che italianizziamo in PNAC, cioè il progetto per il nuovo secolo americano, un piano architettato da alcuni politici degli Stati Uniti sul finire degli anni 90 per prepararsi al nuovo millennio. A predisporlo personalità che oggi sono accanto all'attuale presidente George Bush nel suo entourage ed è un piano che nei contenuti pone inquietanti elaborazioni di iniziative che poi si sono concretizzate in questi anni. Come? Ce lo spiega la scheda al solito predisposta da Leila Manunza. Nella primavera del 1997 nasce il Project for the New American Century, il progetto per il nuovo secolo americano, un istituto di ricerca con base a Washington. Tra i fondatori Dick Cheney e Donald Rumsfeld, ma ne fanno parte anche i numerosi deputati del Partito Repubblicano e la quasi totalità degli esponenti chiave dell'attuale amministrazione Bush. Tra gli obiettivi dichiarati, inseriti nel documento pubblicato il 15 settembre scorso da settimanale scozzese Sunday Herald, la sottomissione militare del pianeta al dominio statunitense. Ma non solo, si tratta di una leadership cercata e costruita nel tempo, volta a raggiungere la supremazia globale dell'America in campo politico, economico e militare, con l'obiettivo di creare un impero democratico organizzato sul modello romano. L'ardito disegno contenuto nel PNAC mira ad attuare una politica di delegittimazione dell'ONU e di ridimensionamento dei poteri del suo consiglio di sicurezza. Tra i vari punti si legge anche la necessità di frenare la crescita economica e militare dell'Europa. Insomma, per conquistare il dominio in contrastato del globo, gli Stati Uniti sono disposti a tutto, anche a mettere da parte la diplomazia e ad innescare guerre di aggressione, violando così il principio di autodeterminazione dei popoli stabilito dal diritto internazionale. Nell'articolo del Sunday Herald viene anche riportato nel dettaglio l'intento di Bush, espresso già prima del suo ingresso alla presidenza, di rovesciare il governo iracheno ed assumere il controllo del Golfo, a prescindere che Saddam Hussein fosse o meno al potere. Evidente dunque che la guerra in Iraq era stata programmata da tempo, almeno dal gennaio 1998. È in questa data che l'equipe del progetto PNAC inviò una lettera al presidente Clinton, anch'essa pubblicata, affinché modificasse i rapporti con le Nazioni Unite e stroncasse il governo di Saddam, perché rappresentava, sostenevano, un pericolo per gli Stati Uniti e una minaccia per Israele e gli Stati Arabi. Sono questi gli elementi che giustificavano il diritto di intervento degli Stati Uniti, compresa la dichiarazione di guerra per garantire gli interessi vitali nel Golfo, determinati anche dagli immensi giacimenti di petrolio. I firmatari di questa lettera fanno oggi parte del governo Bush. Tra i vari nomi eccellenti compaiono anche quelli di Dick Cheney, vicepresidente, fondatore del PNAC, dell'attuale segretario della difesa Donald Rumsfeld, del responsabile della sicurezza internazionale Peter Rodman, del segretario di Stato per il controllo degli armamenti John Bolton, sino a poco tempo fa ambasciatore statunitense presso l'ONU, del presidente della commissione difesa Richard Perle, del vice segretario di Stato Richard Hermitage, sostituito nel 2005 da Robert Zellick e il capo dello staff di Bush, Lewis Libby. Insomma, l'invasione dell'Iraq e la caduta di Saddam nella testa di Bush ben prima dell'attentato alle Torri Gemelle di New York, questo sembra emergere da questo piano che abbiamo descritto. Chiedo ai miei ospiti allora una telegrafica valutazione su questo inquietante aspetto che emergerebbe da un'attenta lettura del PNAC. Malanga? Sì, si potrebbe rapidamente pensare che si tratti di un problema di establishment di destra o di sinistra, invece noi troviamo le stesse persone che fanno la stessa politica sia a destra che a sinistra e ci rendiamo immediatamente conto che queste persone sono anche quelle che sono iscritte alle masonerie, alle logge segrete, a gruppi di potere che derivano guarda caso sempre dalle SS naziste. Pensate come Skellen Bonds per esempio, dove c'è il nome di Bush come uno dei primi fautori, ma lo stesso Bush lo troviamo nel gruppo Bilderberg. Il gruppo Bilderberg è un'associazione che viene, che deriva dal gruppo degli Illuminati. Nel gruppo Bilderberg noi abbiamo i politici italiani di destra e di sinistra, ve ne leggo tre o quattro, dagli Agnelli ovviamente a Draghi, Mario Draghi era direttore del Ministro del Tesoro, a Siniscalco, a Silvestrini, a Tremonti, a Veltroni, a Visco, destra e sinistra, quindi non c'è un problema politico, è un problema di elite. Bosco? Non posso che assolutamente essere d'accordo, l'idea di una destra e di una sinistra è pura un gioco di prestigio per dare, come dicevo prima, dare l'illusione alla gente di avere una scelta che di fatto non ha, ma basta usare un po' di senso critico per accorgersene, basta vedere cosa sta facendo di fatto questo governo, cosa faceva quello precedente e che differenze ci sono alla fine, al di là di qualche dettaglio. Questo governo, l'attuale governo, mi pareva che fosse stato eletto sull'onda via dall'Iraq, via dall'Afghanistan invece. Insomma, cospitazione come un effetto anche trasversale per così dire, bagliata. È un effetto che però affonda le sue radici storicamente molto in là. Secondo me tutto si è deciso con il piano Marshall per quanto riguarda l'Europa e il nostro destino, quello di essere come italiani sempre in mezzo ai due fronti apparentemente contrapposti e in realtà il popolo eletto, come hanno detto i miei colleghi, non conta assolutamente nulla, conta soltanto uno stato di sicurezza nazionale. Questo viene imposto attraverso il cospirazionismo globale che è l'esatto inverso di quello che oggi noi dobbiamo discutere, ma chi sono i cospirazionisti, quali sono le cospirazioni? Noi stiamo dicendo che la cospirazione la fa lo Stato, uno Stato di sicurezza nazionale. Aggiungo un'ultima cosa, visto che è stato tirato in ballo il Skull and Bones e il fatto che la famiglia Bush, almeno da tre o quattro generazioni appartiene a questa loggia segreta dell'Università di Yale, alle ultime elezioni americane Bush era contrapposto al democratico Kerry e Kerry a quale loggia era iscritta anche lui? Alla Skull and Bones. Bene, dal PNAC sembrano emergere i prodromi di strategie e di effetti che poi abbiamo potuto constatare con l'attacco alle torri del World Trade Center di New York, un evento questo che ha suscitato molti dubbi, molte perplessità, Massimo Mazzucco che è un italiano che dal 1994 risiede a Los Angeles, si occupa attualmente soprattutto di informazione su internet, ha tentato di raccogliere in una produzione filmata molti dei dubbi che sono stati innescati dall'attentato alle torri gemelle. Vediamo di sintetizzarne una prima parte e poi avremo modo di parlarne direttamente con lui in collegamento con Los Angeles. Nei cinque anni che sono trascorsi dall'11 settembre 2001 è emersa una lunga serie di indizi che portano a dubitare fortemente della versione ufficiale dei fatti fornita al mondo dal governo americano. Questo è un riassunto dei più importanti. Il foro di entrata nel Pentagono risulta molto piccolo per aver inghiottito un intero Boeing da 100 tonnellate. La stessa FBI nel 2006 ha dichiarato di non avere nessuna prova concreta contro Bill Laden. A conferma di questo, sul loro sito ufficiale, Bill Laden appare ricercato soltanto per gli attentati in Kenya e Tanzania, mentre è solo genericamente sospettato di altre attività terroristiche nel mondo. Ufficialmente, Osama Bin Laden non è ricercato per i fatti dell'11 settembre. Questi dunque gli inquietanti interrogativi, peraltro doviziosamente argomentati da Massimo Mazzucco attorno all'attentato alle torri gemelle dell'11 settembre del 2001. Io vorrei proprio ricollegarmi ancora con Mazzucco, con Los Angeles, intanto per sapere che tipo di reazione hanno oggi, soprattutto sull'opinione pubblica americana, questo tipo di indagini, di rapporti. C'è un complessivo ripensamento, a suo avviso Mazzucco, su quanto è accaduto effettivamente l'11 settembre? Magari ci fossero delle reazioni di questo tipo. Purtroppo qui, essendo chiaramente la cosa, il progetto era destinato soprattutto a funzionare psicologicamente negli Stati Uniti, qui siamo ancora alla preistoria della discussione sul campo pubblico. Ogni tanto viene fuori qualche punto di iceberg, qualcuno che si fa sentire rischiare arrivare in televisione, come l'attore tal dei tali, che dice ma io penso che, ma finisce lì la cosa. Il dibattito aperto non c'è ancora stato assolutamente. C'è però invece, proprio per il fatto che sono quei volte vicini, un sentore diffuso di essere stati presi in giro in maniera mostruosa, tal che un sondaggio di Zogby del settembre scorso, credo nel quinto anniversario, ha riportato che il 42% degli americani sono convinti che l'amministrazione Bush in qualche misura abbia avuto a che fare con gli attentati. Si va da chi appunto pensa che sia stato un altro attentato completo, a chi ha lasciato succedere, ma in un modo o nell'altro un coinvolgimento lo danno nel 42%, che è tantissimo ovviamente. Certo, com'è molto alta anche la percentuale di americani che oggi a anni di distanza ritengono sia stato un errore clamoroso proprio l'attacco all'Iraq. È facile oggi dire che sia stato un errore clamoroso. Il problema secondo me è stato molto più sottile, cioè tornando al discorso che avete iniziato voi sull'imperialismo travestito da democrazia, c'è sotto sotto una cerame, io la sentivo molto, una specie di egoismo silenzioso da parte degli americani, sapevano benissimo che quell'uomo non era pericoloso, però in fondo gli andava bene così, perché sanno benissimo che se andiamo a prendere petrolio, noi ne abbiamo di più e gli altri ne hanno di meno. Adesso siccome comunque il petrolio lo pagano caro, perché hanno capito che il risparmio di petrolio non lo fanno loro, ma lo fraccene, cioè lui che guadagna, a questo punto con i superati 3 dollari hanno cominciato ad arrabbiarsi, ma gli americani bisogna toccarli sul portafoglio e sul personale perché cominciano a reagire, non hanno una grande visione politica del mondo e della storia come abbiamo noi. Mazzucco torneremo a collegarci con lei ancora tra poco, io vorrei invece con i nostri ospiti in studio provare a entrare su alcuni di questi aspetti, di questi interrogativi che Mazzucco così ha sollevato, in particolare questo attentato al Pentagono, Tom Bosco, questo aereo che sarebbe arrivato sul Pentagono, provocando danni che non pagliano così vistosi, se effettivamente a colpire il Pentagono fosse stato un aereo di demissione. Premetto che già il 12 settembre, essendo io, tra le altre cose, avendo il bevetto di pilota commerciale, quindi essendo appassionato di volo e particolarmente attento a tutte le tematiche relative al volo, non riuscivo a credere a quello che era successo, mi sembrava impensabile che un sistema di difesa aerea come quello statunitense avesse potuto lasciare accadere quello che abbiamo visto accadere. Entrando nel merito del Pentagono, direi che quello che ha mostrato la scheda parla da sé, qui abbiamo un buco di 5 metri attraverso cui non può certo sparire un Boeing 757 e soprattutto se andiamo a leggere la versione ufficiale data dalle autorità statunitensi nei giorni successivi, io dico ma quale persona con un minimo di raziocinio può accettare la spiegazione che l'aereo non si trova perché è entrato dentro il Pentagono con le ali e tutto, sparendo dentro il Pentagono, lì avrebbe sviluppato un incendio di proporzioni talmente catastrofiche e con temperature talmente elevate da fondere e fare evaporare tonnellate di alluminio, come fa una persona con un minimo di cervello ad accettare una risposta così? Poi in ogni caso si vede chiaramente dalle immagini il foro di entrata di 5 metri, ma oltretutto il foro di uscita che esce dal terzo anello interno, questo vuol dire che questo aereo avrebbe demolito 3 metri di cemento armato, la punta di un aereo non è la punta di un proiettile, il muso di un aereo per esempio basta toccarlo che si ammacca perché è fatto di plastica, perché dietro il muso ci sono tutti gli apparati di avionica, il sistema Radar Scope, tutti i sistemi di radiotrasmissione, quindi un aereo non può fare quel tipo di danno, soltanto qualcos'altro può fare il tipo di danno, entriamo poi nel merito di altri aspetti tipo l'inesplicabile manovra che avrebbe fatto l'aereo per arrivare a posizionarsi ed entrare nel Pentagono, questo aereo arrivato ad una quota di 1.000 o 2.000 metri avrebbe fatto una fondata con una virata a 270 gradi che infatti i controllori di volo dell'aeroporto Reagan che dista solo 2-3 miglia dal Pentagono, che seguiva una cosa su Radar, hanno detto Capri, quello sembrava un caccia, non un aereo, manovrava come un caccia, non come un aereo commerciale e un aereo commerciale in ogni caso non potrebbe sostenere una manovra del genere, non potrebbe, proprio strutturalmente e neanche quel tipo di aereo può permettere al pilota di effettuare una manovra del genere perché hanno dei comandi fly by wire, non è un comando idraulico che tu applichi una pressione e va direttamente ai piani di coda, c'è tutto un sistema di software che governa in modo che se il pilota fa, passatevi la parola, la cazzata, il sistema software riesce a correre. Ecco siamo di fronte. No, per concludere velocemente, secondo me l'aspetto più incredibile di tutta quella vicenda è che secondo la versione ufficiale l'aereo si sarebbe posizionato alcune centinaia di metri prima del Pentagono, raso terra, avrebbe volato raso terra senza toccare il prato del Pentagono e sarebbe penetrato nel muro, tra l'altro senza lasciare segni compatibili con le dimensioni dell'aereo e la versione ufficiale secondo me, come evidenziato proprio da Massimo nel suo lavoro di investigazione, casca proprio sul daglio del quadrifoglio, ovvero sia che davanti al Pentagono, lungo la traiettoria che ci è stata mostrata, attraverso l'aereo che avrebbe seguito l'aereo, c'è il quadrifoglio dell'autostrada, una collinetta alta 8-10 metri, quindi l'aereo avrebbe dovuto superare con un balzo la collinetta, questo a 800 chilometri all'ora, ributtare giù il muso, riallinearsi sul prato ed entrare nel Pentagono, una manovra impossibile. Insomma siamo di fronte a un grande blef, almeno così lo definisce nell'ultimo numero di Nexus, la rivista proprio diretta da Ton Bosco, un lungo articolo che testimonia come proprio sulla vicenda dell'11 settembre del 2001, il grande blef volge al termine, si fa un'analisi di questi interrogativi che sono stati sollevati, insomma un grande inganno bagliata, ma è tutto questo al prezzo del sacrificio delle vite umane, delle due torri, è possibile, è veramente plausibile? Dunque, io ho vissuto a New York per 7 anni, il mio primo anno e mezzo nel 1980 l'ho trascorso a Murray Street, al numero 81, in un loft, quando io mi svegliavo tutte le mattine, lì non ci sono le tapparelle, ci sono delle cose che si tirano su con una facilità estrema in un secondo di plastica, io vedevo della torre sud già il fantasmagorico illuminarsi degli uffici, alle 8, 8 e mezza la vita già brulicava lì, a poca distanza dovete calcolare che c'è Wall Street, il centro nevralgico di tutto il sistema economico, finanziario industriale e all'interno del World Trade Center le attività quindi erano anche di questo tipo, ma si parla di attività anche di intelligence, c'è un aspetto che in questo momento sottolineo, perché forse altri e se c'è Massimo all'ascolto chiederei proprio a lui un chiarimento, ma è vero che di tutte le migliaia di tonnellate di frammenti, di rottami e di quant'altro rispetto al crollo delle Twin Towers è stato fatto una raccolta ed è stato tutto quanto insabbiato, ovvero sia noi non abbiamo la capacità minima a livello forense, quindi di studio sui reperti di quanto è accaduto, di poter tirare fuori una singola prova, è vero? Vediamo che risposta ci dà Mazzucco. Rispondo con la voce dei familiari delle vittime che fra le 100 domande che hanno posto ai vari personaggi dell'amministrazione Bush, quindi a Cenea Bush, al sindaco Giuliani, hanno chiesto al sindaco Giuliani, sono alcuni che hanno risposto ovviamente, perché lei ha impedito l'accesso all'FBI a Ground Zero sin dall'inizio e perché ha venduto tutto l'acciaio recuperato delle torri entro tre mesi per essere riciclato in Asia, in Medio Oriente per diventare pentolini e cucchiaini, è vero, è una cosa scandalosa, la comunità scientifica si è inorridita di fronte a questo, non c'è quindi la possibilità di analizzare tecnicamente l'acciaio e andare a vedere da vicino perché e che cosa è successo, ovviamente perché se l'avessero tenuto avremmo tornato delle cose che non ci piacerebbe scoprire probabilmente, è verissimo purtroppo. Una possibilità c'è però. Bosco, prego. No, dico, non so se sia veramente, forse una possibilità c'è perché a Padova hanno costruito, a spese anche con un bel contributo di 200 mila Euro del comune, della provincia, hanno costruito un monumento alle vittime dell'11 settembre, sembra che in questo monumento ci siano alcuni elementi originali del Volta di Sender, quindi… C'è un altro? Prego Mazzucco. No, devo dire una cosa, sono stati più carini di così, 250-300 tonnellate le hanno tenute, ovviamente selezionate su quei pezzi di acciaio su cui non c'era nessuna traccia di esplosivo immagino a questo punto, ma qualcosa è stato tenuto per memoria, c'è anche un hangar all'aeroporto Kennedy di New York dove si possono vedere tra l'altro queste stranissime, lo chiamano il Molten Meteorite, sembrano dei meteoriti di rocce e acciaio fusi insieme e siamo ancora qui tutti a aspettare di capire come possa il kerosene, il fuso la roccia e l'acciaio insieme per fare questi oggetti stranissimi che sono da vedere. Ecco infatti questo è un altro degli aspetti inquietanti che emerge dalla vicenda dell'attentato alle Twin Towers, che il crollo delle torri gemelle possa essere stato provocato dall'impiego di una particolare sostanza incendiaria. Vediamo. Con un'apposita scheda che è stata predisposta da Leila Manosca. Secondo il docente di fisica Stephen Jones della Brigham Young University, una sostanza incendiaria chiamata termite insieme allo zolfo sarebbe stata utilizzata l'11 settembre 2001 per fondere le strutture portanti in acciaio delle torri gemelle alla World Trade Center, provocandone il cedimento e quindi il crollo degli edifici. Secondo Jones, il crollo delle Twin Towers non sarebbe stato prodotto dallo schianto degli aeroplani, bensì da pacchi di esplosivi e dispositivi incendiari opportunamente piazzati alla base delle 47 massicce colonne d'acciaio che reggevano i due grattacieli di New York. Questo spiegherebbe anche il crollo di un altro edificio più piccolo, del complesso delle World Trade Center, che benché non fosse colpito da alcun aereo, subì un cedimento strutturale. Il fisico sostiene che la combinazione della termite con lo zolfo avrebbe fatto scaturire temperature così elevate da tagliare l'acciaio in modo netto e verticale come un coltello caldo taglia il burro. Ma che tipo di materiale è la termite? Si tratta di un composto chimico brevettato in Germania nel tardo 800, usato ancora oggi per i proiettili anticarro a carica cava. Non è un esplosivo ma una polvere di alluminio mescolata ad ossido di ferro che, innescata con una semplice miccia, produce una reazione chimica che sviluppa una forte luce e una temperatura di 2500 gradi Celsius, più che sufficienti a fondere il ferro e l'acciaio che liquefanno invece a 1535 gradi Celsius. A Jones non è sfuggito che 50 minuti dopo l'impatto dell'aeroplano e qualche minuto prima del crollo, dalla torre sud fuoriusciva una sostanza gialla incandescente. Mentre gli investigatori del governo, scartata l'ipotesi del metallo fuso, ritenevano si trattasse dell'alluminio degli aerei, il fisico sosteneva invece che la sostanza utilizzata doveva essere la termite perché produce residui di ferro fuso, che varia dal colore giallo al bianco, e di ossido di alluminio. Dopo diverse settimane dal crollo furono rinvenute pozze e grumi di metallo fuso ancora roventi. Anche questo elemento convalida l'ipotesi della termite, che non ha bisogno di aria per bruciare e può reagire anche sott'acqua. Anche sotto i getti degli idranti, indirizzati dai pompieri di New York sulle macerie, la termite continuava il processo di fusione dell'acciaio e del ferro. Si può spiegare così il crollo dei grattacieli caduti in perfetta sincronia. Riprendiamo a Tom Bosco allora l'incarico di commentare anche questi altri aspetti che sono emersi piuttosto inquietanti, come abbiamo detto, dal crollo delle Twin Towers. Direi che le immagini parlavano da sole, anzi ce n'è una immagine che secondo me vale mille parole, non so se si può vedere, è quella in cui si vedono dei pompieri, quindi proprio immediatamente a ridosso del giorno del disastro, proprio a ground zero, con intorno delle travi a doppio T enormi, tagliate diagonalmente e con i segni della fusione. Cioè che cosa può aver prodotto? Il cherosene può tagliare come una fiamma ossidrica così? Io non credo. Torniamo anche da Massimo Mazzucco, anche per congedarci da lui e ringraziandolo ancora per il suo contributo e per averci atteso in quest'ora della giornata, data il fuso orario da lui, ormai è quasi ora di pranzo credo per lei. Io sono sveglio da poco, per me va bene, si fa benissimo. Ecco, volevo chiederle un'ultima domanda, Mazzucco, mi pare di capire che comunque questo dibattito attorno a una, definiamo la nuova verità su questi fatti, appare ancora estremamente sotterraneo, solo negli Stati Uniti o in genere in tutto il mondo occidentale a suo avviso? Guardi che per una volta tanto siamo i primi nel mondo in Italia, credo. Grazie appunto a Matrix che avete nominato prima, dove anch'io sono stato ospite a un certo punto, credo che sia l'unica nazione del mondo occidente, agli arabi ovviamente l'hanno capito da subito e questo non vale, ma diciamo che nell'Occidente è la prima nazione che ha discusso a tutto tondo questo argomento, lo ha reso pubblicamente un problema da dibattere. Non credo che sia ancora successo in Francia, non è successo certo in Germania, non è successo in Inghilterra e non è successo ancora qui in America. Per una volta tanto, oltre che nel calcio siamo avanti in qualche cos'altro, nelle stragi di Stato ce ne teniamo abbastanza da essere in anticipo su tutti. Mazzucco, lei ha in programma ulteriori approfondimenti su questi temi o ce n'è già abbastanza? No, in realtà il riassunto che avete visto, quei 30 punti che avete visto, sono il riassunto di un anno globale, sono i primi 10 minuti del nuovo film che sto facendo, che parla proprio di quello che parlate prima, cioè come è nato il PNAC, come è nata questa scuola di pensiero già dagli anni 70, come hanno sviluppato la loro teoria della supremazia mondiale nel momento in cui la Russia era messa in ginocchio, stiamo sempre parlando giustamente di questioni energetiche. La vera chiave, forse è una cosa che posso aggiungere velocemente, avete parlato molto di Iraq, ma l'Afghanistan rappresentava un punto di passaggio assolutamente indispensabile per gli americani, per la compagnia di Cenei, la UNOCAL, per far passare un gasdotto dal, dicono i due, i due stati che saranno subito a nord, ex stati dell'Unione Sovietica, ricchissimi di gas, comperati dagli americani, ma c'erano di mezzo questi talebani che impedivano che direttamente avevano troppi soldi, impedivano il passaggio del gasdotto. Stranamente oggi le uniche quattro paesi rimaste negli Stati Uniti, alle quali noi purtroppo diamo un appoggio, stanno proprio collocate lungo i quattro punti della mappa dove dovrebbe passare questo gasdotto, perché con questo intendo rifornire di energia tutto l'Oriente per poter riversare invece le risorse energetiche del Caspio attraverso la Turchia, poter portare in Europa e alleggerire così il debito di petrolio dei Stati Uniti verso l'Europa per poter respirare un pochino più l'oro. Questa è la loro strategia in questo momento. Grazie, grazie molte Massimo Mazzucco, attendiamo con curiosità anche gli sviluppi di questo suo lavoro. Grazie ancora, buona giornata. Altrimenti per una televisione splendida, dieci anni fa quando sono partito dall'Italia a televisioni così non ce l'erano in Italia. Buonasera a tutti. Salute a Tom Bosco. Grazie molte a Massimo Mazzucco e noi la linea la cediamo adesso alla regia per uno stacco pubblicitario. Vi ricordate di Echelon? La domanda la rivolgo a chi ci segue da casa, perché questo nome forse a molti non dirà nulla, eppure sul finire degli anni 90 determinò anche l'insorgere del Parlamento europeo nei confronti di una iniziativa americana e non soltanto americana che voleva porre le prime concrete basi per un controllo globale attraverso una rete di stazioni di rilevamento a terra. A questi temi, al controllo globale, è dedicata la scheda che ci introduce su questo tema. Non è solo una sensazione immutivata. Il sentirsi spiati, come fossimo sotto l'occhio indiscreto di un grande fratello, è oggi una realtà. Esiste infatti un sistema di sorveglianza delle comunicazioni di massa capace di mettere sotto controllo telefoni, e-mail, trasmissioni e fax. Queste eccessive attenzioni non sono indirizzate solo verso politici o potenziali terroristi, ma a dispetto delle leggi sulla privacy, riguardano a loro insaputa anche i comuni cittadini. Il telefonino, divenuto irrinunciabile compagno di vita, è il viatico con cui possiamo essere monitorati e controllati, sia nelle conversazioni che negli spostamenti. Il sistema digitale X, usato per le chiamate, ha la capacità di tenere i telefoni sganciati e di ascoltare le conversazioni che avvengono vicino all'apparecchio senza che nessuno se ne accorga. Non si parla di fantascienza, ma delle potenzialità della rete nazionale dei telefoni, progettata per diventare un attendibile mezzo di spionaggio. I telefoni mobili, purché accesi, possono infatti essere localizzati attraverso il tracciato di una mappa geografica, così precisa da presentare un'approssimazione di poche centinaia di metri. Le informazioni registrate vengono poi conservate per due anni nei computer delle compagnie telefoniche. Se si accorpa questo dato, alle tecnologie del sistema X si aprono scenari inquietanti di tracciamento e ascolto di massa. Nella rete di informazione globale si inserisce con prepotenza anche il sistema Echelon, gestito dall'americana NSA, agenzia di sicurezza nazionale, insieme all'Inghilterra, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Si tratta della più grande stazione di spionaggio in Europa, con il potere di estrarre dalle comunicazioni globali quelle considerate più interessanti ai fini non militari. Nella maggior parte dei casi si tratta infatti di informazioni di tipo diplomatico e commerciale che vengono fornite solo ad una destinataria, la Gran Bretagna, permettendole così di conoscere in anteprima le strategie economiche degli stessi alleati. Nel sistema di controllo globale delle comunicazioni si inserisce anche il NORAD, Comando di Difesa Aereo Spaziale del Nord America, un'organizzazione congiunta Canada-Stati Uniti, istituita nel 1958 con sede in Colorado che controlla lo spazio aereo del Nord America, intercettando ogni avioggetto veicolo spaziale, che esca dalle rotte previste per l'aviazione civile, militare e commerciale. In caso si tratti di missili o UFO, il NORAD provvede all'abbattimento immediato. Ma se esiste un organo deputato a questo controllo, come mai l'11 settembre non si è evitata la tragedia? Qual è la reale funzione di questi sistemi? E io ho proprio la domanda conclusiva di questa scheda, la girerei a Malanga. Noi abbiamo fatto accenno a Echelon, abbiamo forse posto come momento di inizio di questo controllo globale proprio l'attivazione di questa rete di controllo. E' proprio così? Quando è nato il controllo globale Malanga? Quando abbiamo cominciato a mettere qualche cosa, un po' di spazzatura intorno alla Terra è nata. Va detto che in realtà non esiste un Echelon come la gente può immaginare, ma esistono tanti Echelonini piccoli piccoli. Io ho fatto fare all'Università di Pisa un controllo sul ridimensionamento dei missili vettori che servono per mandare i satelliti per le telecomunicazioni nello spazio. Così con due ingegneri aerospaziali abbiamo ricalcolato i vettori, abbiamo scoperto che ci sono 300 kg di carico per ogni vettore che non vengono denunciati. Cosa saranno questi 300 kg di carico? Tanti piccoli Echelonini piccoli piccoli che servono per tenere sotto controllo tutti i satelliti, perché un Echelon grande può essere abbattuto, invece ogni struttura a satelliti, a grappolo si chiamano questi satelliti, sono fatti da un satellite grande a tre satelliti piccoli che sono in comunicazione tra di loro, ce ne devono essere tre perché solamente per tre punti si riesce a localizzare esattamente una persona, una cosa. Ebbene, ognuno di questi grappoli ha un piccolo cellulino piccolo dentro il suo sistema di controllo. Praticamente sono non intercettabili perché funzionano a infrarossi e ci si può vedere una moneta da 100 lire per terra. Ma per tornare allora ai nostri attentatori dell'11 settembre, com'è possibile Bosco che siano riusciti a sfuggire a questa rete di controllo? È semplice perché nessuno ricercava, no? È vero che teoricamente non si può sfuggire, questa è un'ottima domanda da fare all'amministrazione americana, ma come? Con tutti i miliardi di dollari che noi contribuenti paghiamo per mandare in orbita tutte queste meraviglie tecnologiche, com'è stato possibile? Che in fine conti è stata anche la domanda che molti familiari delle vittime, tra le domande poste, hanno posto anche questa. Comunque sarà interessante vedere lo sviluppo di questo scenario nell'immediato futuro perché ci sono stati degli elementi piuttosto nuovi accaduti negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, mi riferisco e tutti sono nati dalla Cina che prima ha cominciato ad accecare con dei raggi laser i satelliti spie americani che hanno cominciato anche a protestare e poi, tanto per far vedere che non sono secondi a nessuno in tecnologia aerospaziale, hanno abbattuto un loro satellite con un missile antisatellite dimostrando che hanno la tecnologia per spazzare via dallo spazio qualcosa che a loro non è gradito. Bagliate, è un controllo globale che riguarda soltanto gli aspetti militari, è molto più ampio anche su altri campi, mi viene in mente quello strettamente politico, economico, magari controlli che vengono anche attuati in vari altri settori, dalle case farmaceutiche a quant'altro. C'è l'infiltrazione del potere e dei mezzi che il potere ha, economici, come diceva Corrado all'inizio, ai vertici delle varie aziende. Secondo me non c'è un'azienda di portata nazionale che abbia una sua capacità espressiva verso l'estero che non sia già collegata con i servizi. Il problema essenziale che forse oggi non abbiamo detto è che il cospirazionismo sta allo spionaggio esattamente nella stessa percentuale di peso specifico. Ogni attività di tipo cospirativo nasce da un sospetto. Questi signori non mi stanno raccontando la verità. Perché dall'altra parte non ti raccontino la verità vuol dire che qualcuno sta fuorviando, depistando o inquinando determinate prove. Questo accade puntualmente nella materia che io tratto attraverso Area 51, cioè gli UFO, gli alieni e quant'altro. Ci dicono esattamente il contrario della verità. Ora è un conflitto in cui ci sono anche state molte vittime fra i ricercatori. I campi che sono più caldi, al di là dell'ufologia, che è molto scomoda di per sé, io direi primo il problema della genetica. Cioè i più grandi genetisti devono stare molto attenti a come parlano e ne abbiamo le prove. Quanti ne sono morti di microbiologi? Microbiologi ne sono morti a 25 senz'altro. Gli altri campi sono tutti quanti interconnessi comunque fra di loro, ma sono sempre a compartimenti stagni. Il discorso dell'Area 51 e del Majestic 12 è anch'esso collegato con il discorso che stiamo facendo oggi. Perché dal 1947 al 50-52 dall'istituzione del National Security Act, con cui Truman volle la suddivisione delle armi e l'istituzione dei servizi di sicurezza, quindi servizi segreti che avessero più potere da gestire, fino al 52, quando nasce un livello invece più aperto di informazione attraverso la CIA apparentemente, noi ad oggi ci ritroviamo esattamente con Ecelon. Orbene, Ecelon è il grande fratello, ma se vi ricordate il film I tre giorni del Condor, in cui c'è il tizio Robert Redford che lavora e sta praticamente cercando delle paroline chiave. Ecelon ti becca se parli di UFO e anche se parli con l'amante. È la stessa cosa, bisogna vedere il click che viene dato per poterti, qual è il termine? Fregare. Prima della prossima interruzione pubblicitaria, anche io faccio una sorta di spot a proposito di Area 51, lo citava Maurizio Bagliata, questo è l'ultimo numero fresco di stampa, con un altro reportage su alieni e rapimenti. Noi andiamo alla nostra pubblicità, quella strettamente commerciale. Poi riprendiamo il nostro discorso. La Porta sull'Infinito sta centrando la sua attenzione in questa sua ultima parte, sugli effetti del controllo globale. Abbiamo fatto riferimento a molti casi e aspetti che non riguardano direttamente l'Italia nel corso del nostro dibattito di stasera. Eppure ci sono alcuni accadimenti, alcuni fatti piuttosto eclatanti che ancora non hanno avuto una risposta alla tragedia di Ustica, quella del Cervis, la vicenda di Ilaria Alpi. Tutti avvenimenti sfuggiti, malanga ancora una volta a questa rete di controllo globale. La cosa è molto sospetta. Quando è stato nominato Ustica è come se mi venisse una specie di… Guardate, è come un problema di fisica. Molto rapidamente, se il problema di fisica si sbaglia è perché si sono sbagliate le condizioni di partenza oppure si è sbagliato il calcolo. Ecco, e se nel caso di Ustica si fossero sbagliate le condizioni di partenza? Ovvero, se non fosse stato un errore, ma l'aereo partito da Porta aerei Clemenceau avesse voluto veramente abbattere con un solo missile la prima volta e un secondo missile la seconda volta, perché i missili penso che siano stati due, l'aereo dell'Itavia, cioè questa è una condizione al contorno completamente differente. L'aereo dell'Itavia si trova in una posizione particolare, vede delle cose, nessuno deve tornare a raccontarle. Allora la Porta aerei Clemenceau fa partire il suo aereo che butta giù apposta. Si trovano così i due aerei. Non era un errore. L'aereo francese, perché sicuramente è francese, lo voleva proprio buttare giù l'aereo dell'Italia. Ecco, questo è un altro aspetto della questione, del cospirazionismo. Ecco, un altro aspetto che è molto caro a Tom Bosco, ne abbiamo parlato anche nel precedente ciclo, forse possiamo anche richiamarlo questa sera, è quello legato alle scie chimiche. Arp, Arp tra l'altro, anche questo è un aspetto di controllo globale, perché il sistema Arp, anche se non se ne parla, comunque ha destato preoccupazioni sia al Parlamento europeo, che sono state sollevate proteste alla Tuma. Tanto per ricapitolare, il sistema Arp è un sistema di antenne collocato in Alaska, intanto è uno strumento perfetto per questo sistema di controllo globale di cui parlavamo, perché tra le sue caratteristiche c'è proprio la possibilità di interagire, interferire e addirittura bloccare il sistema di comunicazioni mondiali, oltre naturalmente ad altre cosette ancora più simpatiche come la modificazione del clima, eccetera. Poi le scie chimiche, ormai sono sempre più convinto che pur essendo un sistema a sé stante, lavorano proprio strettamente in simbiosi con il sistema Arp, praticamente le scie chimiche tra le cose più importanti che fanno è aumentare la conducibilità elettrica dell'atmosfera e permettere quindi ad Arp di esercitare i suoi nefandi influssi con un'efficienza molto maggiore. Quindi che dire, anche il caso delle scie chimiche è sconsolante, così come nel caso dell'11 settembre, siamo nel 2007 e noi abbiamo cominciato, non noi, si è cominciato a parlare del problema delle scie chimiche già nel 1996, sono passati 10 anni e ancora siamo qua a parlarne, perché i governi e le autorità o negano l'esistenza del problema o quando si degnano di, perlomeno di dare delle risposte, danno delle risposte assolutamente incongruenti. Bagliata, siamo proprio sotto l'occhio di un grande fratello costantemente nei nostri momenti di vita quotidiana. Ma dunque, sembrerebbe di sì, però è un po' paradossale, perché dovremmo pensare a un sacco di persone attaccate ai computer, nonché a terminali vari, no, lì è un problema di parole chiave, cioè la decrittazione di sistemi cifrati e di codici, è da lì che nasce il tutto e se tu pronunci una determinata parola, immediatamente la macchina ti aggancia e ti porta all'attenzione del cervellone. Quindi tu sei segnalato come disturbatore, agitatore della quiete pubblica a dir poco. Questo è il primo passo per entrare dentro un libro nero in cui ci sono gli ufologi e ci sono tante altre persone che non dovrebbero dire certe cose, dovrebbero stare molto attenti, ma il problema maggiore non è proprio questo, è l'informazione. All'interno delle redazioni, dei giornali, che io ho frequentato a lungo, è un dato di fatto che l'informazione alternativa rispetto a quella di Stato non passa, non filtra. E il meccanismo non è soltanto il problema della carriera da parte del collega giornalista, è che al vertice viene detto no, guarda che non te ne devi occupare. Quindi anche se ti arriva la testimonianza di una persona che ha visto uccidere per strada qualcuno, è chiaro che non va direttamente prima agli organi di polizia, poi alla stampa, la notizia viene filtrata e se per caso ha a che fare con terrorismo o quant'altro viene collegato al sistema di controllo di cui stiamo parlando, la notizia è più facilmente insabbiabile o filtrabile o inquinabile, comunque passa edulcorata all'attenzione della gente. Malanghe, così esiste proprio questo sistema di censura forte su queste tematiche? Non solo esiste, ma è previsto che questo sistema venga ampliato. Se voi guardate tutta la ricerca scientifica che noi abbiamo, il 98% della ricerca scientifica è .gov, è roba militare. Tra queste cose spiccano per me di grande interesse tutta quella serie di ricerche sui famosi microchip craniali. C'è una serie di piccoli microchip, li potete cercare tutti su internet ci sono i brevetti, c'è il microchip per far vedere delle cose che non ci sono, il microchip per far sentire delle voci che non ci sono, il microchip per avere la voglia di fare l'amore anche quando non ce l'hai, il microchip che controlla se tu dormi o ti muovi o hai gli occhi aperti o gli occhi chiusi. E questi microchip c'è una serie di ditte che li vorrebbe commercializzare con la scusa di dire mettetevene uno nel vostro cranio, mettetelo nel cranio del vostro bambino così se per caso loro apissero voi sapete subito dov'è e poi vi farà bene perché non andrete più al supermercato con i soldi. Vi si apriranno le porte del supermercato. Un giorno se non avete più il microchip non potrete più neanche entrare in ascensore, ma quando sarete nella cabina per votare il vostro preferito una vocina dentro la vostra testa vi dirà votatizio, votatizio, votatizio e sarà il microchip, questo è il futuro.